Buonasera professor Barbero. Buonasera. Stasera cominciamo con un ritratto di un personaggio molto importante, Carlo Bagno. In questo ritratto vediamo in alto due stemmi, uno della Francia e l'altro dell'impero. E infatti quest'oggi parleremo proprio della storia degli stemmi, anche loro hanno una storia. Intanto sono un'invenzione del medioevo, nell'antichità non esistevano. Giulio Cesare non aveva lo stemma. E sono un'invenzione occidentale. Nel resto del mondo, ecco, c'è solo il Giappone che ha elaborato un sistema di stemmi per le grandi famiglie di samurai simile al nostro. E il Giappone aveva una società feudale simile alla nostra società del medioevo in effetti. Quanto al medioevo poi gli stemmi sono nati tardi. Al tempo di Carlo Magno in realtà non esistevano ancora. Ma qui è Dürer perché il suo ritratto ha inserito due stemmi. Ma perché al tempo del Dürer, nel Cinquecento, gli stemmi erano dappertutto. Quando un pittore faceva il ritratto, un nobile sempre metteva il suo stemma sullo sfondo. Vai a pensare che Carlo Magno non avesse uno stemma. A loro sembrava impossibile. Solo che non sapevano quale fosse. E siccome all'epoca sia il re di Francia, sia l'imperatore del Sacro Romano Impero, pretendevano di discendere da Carlo Magno, allora Dürer, per non sbagliare, ha messo a tutti e due gli stemmi. Solitamente questi stemmi hanno la forma di scudo. C'è una ragione? Sì, perché gli stemmi nascono sugli scudi dei cavalieri, che in guerra o nel torneo vogliono essere riconosciuti. Ormai chiusi nell'armatura non si vede neanche la faccia. E quindi, in sostanza, è una cosa legata al combattimento. Anche se poi molto presto cominciano ad avere uno stemma anche personaggi del tutto pacifici. Qualunque notaio nel Medioevo ha il suo stemma. I papi, i vescovi. Oggi le città hanno tutte uno stemma. Ma è rimasta la convenzione che deve essere a forma di scudo. Però contraddistinguono questi stemmi non i singoli, le famiglie, il casato. All'inizio sono i singoli, cioè la prima idea è che un cavaliere si fa dipingere un suo simbolo sullo scudo, qualche colore riconoscibile o un animale araldico, come si dice, un leone. E diventa una cosa di famiglia con un'altra invenzione del Medioevo, che sono i cognomi. I cognomi, anche quelli non c'erano prima. A un certo punto nascono e quando un nobile è, che ne so, un visconti o uno sforza, abituato a portare lo stesso cognome con tutti gli altri maschi della sua famiglia, allora nasce l'idea che anche lo stemma deve essere uguale per tutti. Tra l'altro a questo punto nasce anche, per così dire, la scienza degli scudo, cioè l'araldica. Non sono i nobili, quindi Porden, lei lo accennava prima a Notai, eccetera, diventa un po' un'abitudine che si estende. Sì, è un'abitudine che piace moltissimo a tutti. Avere uno stemma ti fa sentire nobile. E quindi all'inizio qualunque borghese che ha fatto i soldi si inventa uno stemma e comincia a passare per nobile. Poi succede che i re si preoccupano di questa cosa, cioè non si può lasciare che il primo venuto si faccia passare per nobile, anche perché i nobili hanno dei privilegi, non pagano l'età, insomma ecco. Allora nasce l'idea del consegnamento dello stemma e cioè periodicamente tutti quelli che pretendono di usare uno stemma devono presentarsi a certi uffici e dimostrare che hanno davvero il diritto di portare in famiglia quello stemma. C'era però anche un escamotage. Se uno non aveva proprio le prove, pagando si riusciva ad avere il permesso lo stesso. Ma anche in seguito si è continuato a inventare. Per esempio, quando la famiglia Agnelli nell'Ottocento ha comprato la grande villa a Villarperosa, nella chiesa del paese hanno fatto mettere il loro stemma e cioè una grande A maiuscola, l'iniziale del loro cognome. Questa è una cosa che va contro tutte le regole dell'Araldi. Perché l'Araldica era una scienza per analfabeti e quindi non usava le lettere. Lì cominciava diciamo l'epoca dei marchi, delle grandi aziende. Gli stemmi marchi in fondo erano molto più importanti quelle delle aziende che quelle delle famiglie. La Fiat è più conosciuta degli Agnelli. E il suo marchio è sicuramente più conosciuto che non la A che gli Agnelli hanno cercato di attribuirsi come stemma Araldica, certamente. Grazie.